Resto a casa assolutamente in pace, niente aria condizionata, riposo assoluto. Sì, sto a casa anche con la famiglia, con gli amici, andare in giro è stato molto bello anche per me, condividere anche tante belle cose. Si lavora. Si lavora. Come tutti altri giorni lavorare. Si lavora anche il 15 d'agosto. Anche il 15 d'agosto il mercato non si può trascurare, perché fa parte del nostro lavoro e bisogna approfittare sperando di lavorare. Lavoro, sì. Al mare. Il mare, in montagna no, il mare sì. A casa con i figli. Un bel giro in montagna, una bella escursione, mi godrò il fresco della montagna e i paesaggi stupendi, del nostro montagna ovviamente. Io poltrirò sul divano, le mie ferie saranno poltrire sul divano a guardare serie tv. E lei signora? Le farò compagnia, obbligando qualche faccenda di casa qua e là. Pensavamo a Siago. Quindi al fresco in alto piano. Speriamo, dai, speriamo di trovare il fresco, sì. Concordo, vado con lei.